Parlerà adesso, penso che il suo compito sia un po' più difficile, perché una cosa è controllare in carcere, una cosa è controllare all'esterno. Il rischio di ricompattamento di frange diverse, sicuramente c'è, non è nuovo peraltro, e quindi ce ne traccia anche nell'ultima manifestazione dell'altra sera, dove l'attività di osservazione ha fatto intravedere che c'erano anche componenti di una più generale galassia dell'antagonismo, e quindi non solo l'appartenenza ai gruppi anarchici. Quindi il rischio, diciamo, in qualche modo, comunque la solidarietà, chiamiamo così, il fatto di, anche in maniera solo occasionale per questa partita, il fatto di condividere questa battaglia in qualche modo identitaria e in maniera più trasversale, c'è. Insomma, qualche segnale c'è, è all'attenzione delle forze di polizia e viene monitorato. Ripeto, basta guardare, o meglio, le forze di polizia hanno la capacità di osservare quelli che sono le partecipazioni a queste manifestazioni di piazza, di strada, e si vede, ovviamente riconoscendo alcuni soggetti, che ci sono anche alcune presenze, ma anche gli episodi che in passato, in un recente passato, sono stati commessi, anche dal tipo di rivendicazioni, fa capire che, insomma, sicuramente c'è qualche legame.